Siamo con Giacomo Vanni dopo la vittoria in casa contro il Forlì, un esordio col botto per te. Sì dai, sono contento soprattutto per la squadra e per i ragazzi, a livello personale ovviamente sì, però quello che conta è la squadra, a me non mi interessa di gloria personale, ormai ha 35 anni, quasi 36, ho finito di pensare alla gloria personale, mi piace più condividere questi gol con i ragazzi che se lo meritano. Un finale molto sofferto, cosa è mancato al Borgo per chiudere prima questa partita? È mancato, non lo so cosa è mancato, è una partita però senza storia, abbiamo giocato molto meglio di loro in tutte le fasi e abbiamo meritato ampiamente la vittoria, c'è da soffrire, questo si sa ma fa parte del calcio, va bene così. Adesso con il Mezzolaro si cercherà la continuità, che gara servirà? Come oggi, con una gara cattiva, attenta, dobbiamo far capire a tutti che questa è casa nostra e in casa nostra si comanda noi. A fine primo tempo, avanti 2-0, cosa vi ha detto il mister nello spogliatoio? Ovviamente di continuare così, di non abbassarci e di continuare a dare pressione in tutte le parti del campo e dai, sono contento, è andata bene. Grazie. Grazie.